Pochi ore fa ho pubblicato un post sulla community per chiedervi quale sarebbe stato il prodotto che avremmo utilizzato nel video di oggi Inutile fare troppi cibi di parole anche perché oggi come avete detto dal titolo andremo a vedere come poter scaricare Instagram più o meno su Apple Watch Ecco guardando le vostre votazioni direi che non ci siete proprio andati vicino neanche un poco Ma gli altri due elencati ovvero il gadget particolare di Apple tra l'altro su questo ho fatto anche un veloce short e il nuovo Google Pixel 8a saranno oggetto per prossimi video futuri Ritornando però a noi Apple ha deciso di rimuovere app social come TikTok, YouTube ed Instagram appunto Semplicemente perché essendo lo schermo di questo smartwatch fin troppo piccolo per supportare queste applicazioni Insomma era molto limitato però io aggiungerei probabilmente perché sono fissati anche giustamente con il design E quindi non essendo perfetto hanno deciso direttamente di eliminarlo Motivo per il quale ancora non abbiamo l'app calcolatrice su iPad Vorrei solo ricordarvi Per questo se avete Apple Watch collegato al vostro iPhone l'unica cosa che potete fare effettivamente è quello di leggere i messaggi che arrivano Ma non potete in alcun modo interagire con questi Come primo step vi basterà scaricare l'applicazione sul vostro telefono chiamata Lens4Watch Una volta fatto questo tanto non che pesi moltissimo andrete ad inserire le credenziali per accedere all'account che state utilizzando Una volta eseguita questa veloce azione Ovviamente veloce si intende se username e password ve le ricordate oppure ve le siete disegnate Scaricate quest'app su Apple Watch o comunque penso se siete collegati con lo SSD dovrebbe essere stata scaricata in automatico anche qui E il gioco è fatto abbiamo finito Potrete vedere post o video mettere un mi piace e salvarli nei preferiti Nel caso in cui come me avete anche un account creator Oltre a poter visualizzare la schermata del nostro account ovviamente Compresi follower, like, video, post pubblicati da noi Potrete anche controllare le vostre statistiche o analitiche In questo caso però purtroppo per ottenere l'accesso completo ad ogni singola opzione Per esempio non vi ho detto scrivere un commento Dovrete passare all'abbonamento Lens Pro così chiamata per supportare gli sviluppatori Oppure spendere direttamente a partire da 0,99€ Se siete interessati però vi lascio qui sotto in descrizione altri due video dedicati In cui vi mostro funzioni segrete che poche persone davvero conoscono sempre su Apple Watch E non solo anche come scaricare Whatsapp Insomma come al solito fatemi sapere sotto nei commenti cosa ne pensate se ha funzionato questo metodo E come al solito ci vediamo in un prossimo video